addio a berlusconi il cordoglio di forza italia nel pesarese indagini a tappeto dopo l'ordigno esploso a monte labbate chiesa di sant'agostino restaurato il coro quattrocentesco turismo un san bartolo a misura di bus navetta un esercito di giovani ciclisti sulle strade di rossini e raffaello buona serata ben ritrovati oggi è lunedì 12 giugno questo è il nostro telegiornale il telegiornale di rossini tv sul canale 80 visibile in tutta la regione marche allora non possiamo che iniziare questa edizione parlando della notizia che oggi ha di fatto chiuso un'epoca della storia italiana quella della scomparsa di silvio berlusconi che è stato ricordato ai nostri microfoni dal capogruppo di forza italia a pesaro michele redaelli e dall'assessore regionale stefano aguzzi sentiamoli questo è un momento di dolore per la salita al cielo del presidente silvio berlusconi lo è per il popolo di forza italia lo è per il centrodestra sua grande invenzione l'ascito al nostro paese e lo è per i tantissimi italiani che in tutti questi anni lo hanno seguito e sostenuto questo è il momento del silenzio della preghiera del rispetto per l'uomo silvio berlusconi intervengo sotto voce con il massimo rispetto perché mi sembra doveroso rendere noto il grande affetto che ci sta arrivando tramite messaggi telefonate e la grande vicinanza di tantissime persone che vogliamo idealmente inviare alla famiglia di berlusconi a tutte quelle persone che si sentono colpite da questo lutto un grande ricordo che ho di lui e mi commuovo nel dirle quando io vinsi a fano per la seconda volta e ero in quel momento il sindaco più votato d'italia in quel momento nelle città sopra 50 mila abitanti e lui mi chiamò per chiedermi a suo tempo di candidarmi alla presidenza della regione marche io molto perplesso su questa cosa gli dissi già gli anticipai un no di fatto perché mi sembrava ingiusto verso chi mi mi aveva votato così tanto fortemente a fano in quel momento ed io ero sindaco di nuovo per la seconda volta da pochi mesi e lui però insistette mi richiamò una seconda volta qualche giorno dopo io gli ribadei questa cosa non so sinceramente come l'avrà presa in quel momento ed ora passiamo alla cronaca sabato vi abbiamo raccontato attraverso i nostri social network dell'esplosione di una bomba rudimentale nella frazione di Montelabate esattamente alla psella e allora resta in condizioni gravissime il 37enne responsabile dell'accaduto sul quale proseguono indagini a tappeto proseguono le indagini dei carabinieri su ion olteanu proseguono gli accertamenti sui motivi per cui quelle 37enne romeno da pochi giorni ospite in casa della sorella nella frazione montelabatesi di apsella maneggiasse esplosivi e realizzasse ordigni rudimentali una bomba che attorno alle 13 e 15 di sabato è deflagrata senza controllo dalla mansarda del civico 40 di via per apsella lasciando sgomento un territorio frastornato dal boato e dal propagarsi della notizia un'esplosione che soprattutto ha ferito e mutilato olteanu il 37enne da sabato è stato trasportato in le ambulanze in condizioni gravissime all'ospedale torrette di ancona dove tuttora ricoverato e sottoposto a interventi chirurgici plurimi l'esplosione ne ha tranciato entrambe le mani e ora rischia di far perdergli pure un occhio al cospetto dei gravi traumi al viso riportati all'interno di un quadro clinico che resta di prognisi riservata e che lascia in dubbio la possibilità del se e il quando olteanu potrà essere interrogato dalle forze dell'ordine esiste una possibilità che il tipo di esplosivo andato fuori controllo fosse destinato a far saltare in area bancomat ai fini di furto un tipo di crimine nel quale però olteanu non risulta mai essere stato coinvolto al di là di qualche suo precedente con la giustizia legato a furti e possesso di armi per ora scarsi elementi sono emersi dalle testimonianze dei parenti ma intanto i carabinieri stanno setacciando il cellulare di olteanu e hanno sequestrato due furgoni parcheggiati vicino al centro commerciale le matite di montelabate un episodio gravissimo che si è verificato nel weekend in un locale di miramare di rimini dove in seguito ad un pestaggio è in coma irreversibile giuseppe tucci vigile del fuoco di 34 anni al quale è stata diagnosticata la morte cerebrale il principale indiziato per le responsabilità sull'accaduto è un buttafuori dipendente del locale si tratta di un 28enne albanese residente a fano difeso dall'avvocato pesarese giulio maione per rispondere dell'accusa di lesioni gravissime che rischiano di aggravarsi in accusa di omicidio volontario lutto nel mondo della musica pesarese è morto oggi maurizio palazzi cantante batterista fondatore dell'orchestra ping pong che ha fatto ballare generazioni di pesaresi alternandosi fra musica jazz e pop maurizio palazzi e il padre di marusca palazzi garante per i disabili di pesaro il funerale si terrà mercoledì alle ore 16 nella chiesa di santa veneranda ed ora cambiamo argomento e ci spostiamo nella frazione petrianese di riceci luogo al centro del contestato progetto di costruzione di una discarica in cui era arrivato a sorpresa anche vittorio sgarbi il sottosegretario alla cultura ha espresso ferma contrarietà a questo progetto capisco che ci sia una comunità che difende questi luoghi e capisco anche che le pubbliche amministrazioni non devono essere subordinate a iniziative private di aziende addirittura qui perché pare che ci sia san marino i quali in assenza di una programmazione dello stato della regione decidono di trovare l'area che piace loro l'area ci deve essere perché non possiamo negare che occorre sbattire rifiuti ma non possiamo neanche immaginare che la scelga qualcuno al posto di dio cioè qui è come se dio si fosse allontanato di san marino di più lontano di dio da san marino non si capisce perché non siano bravi persone ma è un luogo dove le persone vivono per il loro bene non per il bene dell'umanità ed ora torniamo a pesaro per occuparci di arte sacra quella del coro quattrocentesco della chiesa di sant'agostino al centro di un'importante opera di restauro il prestigioso coro ligno intarsiato della chiesa di sant'agostino di pesaro risplende a nuova vita è stato infatti completato il restauro conservativo di una delle opere quattrocentesche più importanti della città grazie al contributo del lions club pesaro ost in un'operazione coordinata dall'arcidiocesi di pesaro sotto la vigilanza della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle marche il restauro dell'opera di epoca sforzesca situata dietro l'altare maggiore sarà presentato nella stessa chiesa di sant'agostino giovedì 15 giugno alle ore 21 service che sono stati sicuramente un notevole impegno economico per i club che però ha trovato il sostegno di tutti i soci proprio in vista di poter di poter donare alla città questo questo restauro così che ha potuto mettere in luce la bellezza dell'opera che possediamo diciamo che questo diventa anche un momento per far conoscere ai cittadini che non hanno mai avuto l'occasione di visitarlo questo questo grandissimo questa grandissima opera e per consentire loro di apprezzarla pieno ad occuparsi dell'operazione di pulitura dell'opera è stata la ditta bischi restauri il coro ha subito un grosso intervento negli anni 40 sostanzialmente a cavallo proprio della guerra dove sono state reintegrate in grosso modo la maggior parte delle tarsie che erano andate perse quindi questo era lo stato che abbiamo trovato naturalmente il coro necessitava di una ripresa perché ovviamente come tutti i beni immobili senza manutenzione si alterano si depositano pulviscolo o quant'altro per cui abbiamo siamo partiti dall'aspetto più difficoltoso che era la pulitura e per eseguire queste naturalmente abbiamo dovuto considerare la tipologia di materiali con cui era stato realizzato per poter intervenire poi con dei solventi idonei non solo il coro restaurato giovedì sera sarà presentata anche la guida storico illustrata della stessa chiesa di sant'agostino realizzata dalla storica giovanna patrignani effettivamente abbiamo opere bellissime ma manca a chi le visita la chiave di interpretazione ecco la guida sicuramente grazie ai valentissimi autori che hanno scritto le varie schede fornirà una chiave di lettura assolutamente che consentirà appunto un arricchimento per tutti coloro che la visiteranno un parco san bartolo sempre più collegato e fruibile dai turisti va in questa direzione il progetto di bus navette volte a collegare i luoghi più suggestivi della strada panoramica fra pesaro e gabice mare lavoro in corso per rendere l'intero parco san bartolo sempre più visitabile fruibile e soprattutto a portata di bus navetta va in questa direzione il lavoro dell'associazione riviera del san bartolo presieduta da fabrizio liva in dialogo con le amministrazioni coinvolte di pesaro gabice mare gradara si studia un valore aggiunto al cospetto del fatto che è venuta meno anche la presenza minima in tal senso ovvero quella della navetta organizzata dal comune di pesaro temporaneamente soppressa dopo le recenti frane noi dovevamo cambiare il sistema di collegamento che c'è stato fino ad oggi con san bartolo dove si partiva dagli scavi di colombarone che sostanzialmente è stato un falimento perché i bus erano pochi frequentati ma dobbiamo instaurare praticamente un sistema di collegamenti che parta sia da peso sia da gabice e che attraversi tutto il san bartolo e che faccia diversi punti di sosta l'obiettivo è quello di non marginalizzare dalla proposta turistica un'area naturalistica di assoluta eccellenza il san bartolo sicuramente per noi è una grande risorsa ci sono bellissimi borghi ovviamente la fa da padrona filanzuola di focare che è stata insegnita anche di uno del titolo di borgo più bello d'italia e però non deve fermarsi solo su filanzuola di focare perché altrimenti avremmo come dire un collasso di presenze peraltro su filanzuola di focare esiste anche un altro problema altri due problemi quello dell'antenna che comunque va rimossa io faccio parte anche del comitato della contro l'antenna e pare che ci siamo ci stiamo riuscendo e l'altra cosa quello di creare comunque un parcheggio per filanzuola di focare perché solo i pochi parcheggi a ridosso dell'ingresso dell'arco di focare non sono sufficienti per cui noi dobbiamo lavorare per valorizzare questo territorio ma dobbiamo farlo visitare perché fino ad oggi e diciamo che si è fatta solo propaganda mediatica ma non si è fatto nulla di concreto a fanno possono ripartire le ricerche archeologiche negli scavi di via vitruvio dove dallo scorso marzo si ipotizza possa trovarsi la basilica descritta nel de architettura dello stesso vitruvio dopo diverse settimane di stop burocratico si possono mettere a terra i 45 mila euro finanziati dal ministero della cultura per proseguire allargare gli approfondimenti archeologici in tal senso a pesaro è stata inaugurata ieri nel parco della parrocchia di san pietro in calibano la 22esima little free library della città donata dalla onlus gulliver al quartiere di villa fastigi tramite il progetto di economia circolare altro giro si tratta della 22esima mini biblioteca accessibili a tutti che continua a promuovere il piacere della lettura attraverso il riuso come di consueto rossini tv vi porta periodicamente a conoscere alcune nuove attività del nostro territorio a tal proposito ieri è stata inaugurata valle foglia una nuova attività ed è esattamente un punto vendita orto frutticola made in italy andiamo a conoscerlo ricordandovi anche che poi potrete vedere lo speciale completo che andrà in onda giovedì 15 giugno alle ore 21 e 20 io ho avuto una passione fin da piccolo per questo lavoro nell'ambito dell'orso frutta e quindi ho sempre avuto la tendenza ad avere un punto vendita a modo per rendere per soddisfare il più possibile la gente che comunque mi segue e mi trovo a montecchio di valle foglia dove tramite mia sorella che è qui da da tantissimo tempo mi sono un po ambientato qui ho conosciuto tante persone della zona e tecnicamente mi sono lanciato una sfida con me stesso di realizzare questo punto vendita questo negozio non si chiama vito questo negozio si chiama made in italy orto frutticola made in italy quindi non è un made in italy giusto per dire made in italy se tu vai a vedere tutto quello che c'è qui dentro è d'origine italiana ma a maggior ragione come potrei anche vedere in delle locandine ho cercato di attaccare le marche alla sicilia quindi prodotti che troverai qui dentro per il 90 per cento dei prodotti che sono qui dentro le sono locali marchigiani e siciliani più marchigiani sono i salumi formaggi latte le uova la farina la pasta che made in marche abbiamo un estratto di frutta 100 per cento italiano del posto del territorio abbiamo anche prodotti qualche prodotto pugliese qualche biscotto pugliese abbiamo qualche sottolio pugliese ma nell'orto frutta ho puntato molto sulla sicilia perché la sicilia è una delle zone dell'italia comunque della nostra nazione che si addice un po di più per gli ortaggi per un po di frutta grazie alle sue temperature alle sue al suo clima una nuova attività per noi è un fatto sempre estremamente importante vengono a fare la spesa in questo territorio a montecchio anche da tutti i comuni confinanti quindi questo a noi ci fa piacere quindi facciamo anche un in bocca al lupo a la coraggio e la passione di aprire un'attività nuova magari con prodotti locali con prodotti siciliani con prodotti delle nostre terre e perché poi la gente apprezza ma è anche attenta soprattutto le donne a quel che comprano che sia un prodotto di qualità la qualità fa la differenza e quindi l'in bocca al lupo è che questa attività possa crescere possa avere un futuro e possa dare soddisfazione anche i cittadini alla comunità di questo territorio e allora in bocca al lupo a questa nuova attività è sempre un piacere conoscere dare voce alle aziende del territorio soprattutto quelle che nascono eh quotidianamente ed ora ci occupiamo di sport perché è un esercito di giovani ciclisti è di nuovo pronto a pedalare tra Pesaro e Urbino nella seconda edizione della corsa Rossini Raffaello organizzata da Fisoradi Medical Center vediamo ricordiamo diciamo questo memorial intitolato Marco Ragnetti siamo alla seconda edizione dentro naturalmente a questa Rossini Raffaello che collega le due città Pesaro e Urbino e siamo contenti di ritrovarci qua dopo la prima edizione che è andata benissimo dove abbiamo avuto 160 iscritti di 10 regioni d'Italia quest'anno abbiamo avuto l'onore abbiamo l'onore che la regione Marche ci ha affidato come gara Rossini Raffaello valevole per il titolo regionale quindi verrà consegnata al primo corridore delle Marche la maglia di campione regionale quindi avere un riconoscimento così dalla regione il secondo anno quindi dopo la prima edizione sicuramente abbiamo mandato un buon messaggio devo dire che questa gara ormai ha assunto un livello regionale è una bellissima gara perché collega la città di Pesaro con la città di Urbino e averla chiamata Rossini Raffaello è stata sicuramente un'idea geniale perché Rossini Raffaello sono i due come dire i due rappresentanti più conosciuti del mondo nel nostro territorio noi dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi di avere personaggi di questo tipo che vanno in qualche modo legati appunto ancora di più al nostro territorio perché sono una grande opportunità di valorizzazione della città di Pesaro di Urbino ma soprattutto di tutto il territorio che abbiamo bellissimo qui nella provincia di Pesaro Urbino mi pare una bella iniziativa noi abbiamo dato il patrocinio anche un piccolo contributo anche l'anno scorso pensiamo che il percorso Pesaro Urbino Rossini Raffaello è anche un percorso di natura non solo sportiva ciclistica per gli appassionati ma anche culturale storica che coinvolge anche Vallefoglie essendo proprio al centro a 18 chilometri esatti da Pesaro e da Urbino e poi il percorso anche quello affascinante che abbiamo fatto durante il Giro d'Italia che è il crinale dove passavano gli eserciti del Duca Federico ha un fascino davvero straordinario e sappiamo già che diverse squadre che ci sono state lo scorso anno torneranno e quello che possiamo dire abbiamo fatto bene quest'anno vogliamo fare ancora meglio cerchiamo di dare il massimo abbiamo avuto il sostegno di tutti gli sponsor dell'anno scorso e anche alcuni sponsor nuovi le amministrazioni anche quest'anno ci hanno sostenuto e poco prima di questa conferenza stampa abbiamo avuto il tavolo tecnico quindi sappiamo che tutto è a posto cosa dire vi aspettiamo domenica in piazza 2 luglio per la partenza di questa gara eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale carissimi amici restate con noi anche questa sera perché su Rossini TV alle 21.20 una nuova puntata di Spazio Z quindi mi rivolgo soprattutto ai ragazzi della generazione Z che guardano Rossini TV e questa sera potranno conoscere gli amici e gli atleti del Pesaro Rugby e vi ricordo che domani non ci sarò io con voi per questa settimana non mi vedrete la conduzione della rassegna stampa ma tornerò la prossima settimana chiaramente però in questi tre giorni ci sarà Antonio Astuti quindi in bocca al lupo e buon lavoro ad Antonio che domani vi aspetta alle 7.20 e poi come sempre vi ricordiamo di scaricare la nostra applicazione è uno strumento gratuito molto semplice da usare e vi permette di essere sempre collegati con noi ma soprattutto di vedere i nostri programmi in diretta anche quando siete dall'altra parte del mondo e allora grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata